Ci avviciniamo sempre di più alla finale X Factor 12 questa sera, 5. I telespettatori di Sky 1 assisteranno infatti all'attesissima semifinale del talent di Sky 1, nel corso della quale scopriremo i nomi dei quattro concorrenti finalisti che avranno la possibilità di esibirsi al forum di Assago e correre per la vittoria. Come già vi abbiamo raccontato su Ginger, ad accompagnare i talenti di X Factor 12 nella loro strada verso il trionfo saranno Mara Maiocchi, Manuel Agnelli, Fedez e Lodo Guenti. Quest'ultimo, il leader dello Stato sociale, si è aggiunto in corsa per sostituire l'attrice Asia Argento, travolta da uno scandalo di molestie sessuali ai danni del collega Jimmy Bennett. I 12 concorrenti che hanno partecipato a X Factor 12 li abbiamo imparati a conoscere prima i provini, poi ai bootcamp e infine agli home visit. Qui sotto trovate le assegnazioni dei pezzi della semifinale di stasera Gruppi Baul and Iron di Woodkid, Amandoti dei CCCP versione Gianna Manning Under Donne Luna Melis Mika Van Gogh di Caparenza, Conte Old As di McClemore e Ryan Lewis Under Uomini Leo Gasman Dead in the Water, Noel Gallagher, Come a profondo il mare di Lucio dall'Anastasio La Porta dello Spavento Supremo di Franco Battiato, Clint Eastwood dei Gorilla Zovernaomi Rivecchio Problem di Ariana Grande, Mesh Up Rap Go di Eminem e Beautiful di Cristina Aguilera vi ricordiamo che la semifinale di X Factor 12 prevederà due manche distinte e una doppia eliminazione. Ospite d'onore della serata sarà il rapper Salmo, che sul palco della X Factor Arena canterà Il cielo nella stanza, il secondo singolo estratto da playlist. Insieme a lui anche Lorenzo licita, il vincitore della scorsa edizione di X Factor. Seguirete anche voi la sesta puntata dei live di X Factor 12. Seguirete anche voi la sesta puntata dei live di X Factor 12.